Grazie. I told you off, didn't I? Hello? I told you off today. I said throw punches. Testing, testing. Can you hear me? Testing, testing. Can you hear me? In scadenza vengono trasferiti di giurisdizione dallo Stato sovrano a uno Stato esterno che può essere l'Inghilterra o lo Stato di New York e questo crea problemi staventosi nel caso di un'uscita dall'Europa della nazione di cui si parla. Se questo succede o è già successo nel caso di l'Italia siamo nei guai, vorrei che diceste due parole di questo perché poi, Michael, c'è anche il problema, Michael, per favore parliamo dei vulture funds. Cioè abbiamo parlato dell'Islanda come un caso triunfale di opposizione a questa, ma c'è il problema dei vulture funds che è un problema che incombe sull'Italia ed è un problema gravissimo. Quindi vi chiedo di parlare di qualcuno di queste due cose. Comincia Stefanie Kelton. Now we'll start the afternoon session with Stefanie Kelton, however. Comincia Stefanie Kelton. Entriamo nel vivo dalla MMT. So let's start dealing with MMT. Buon pomeriggio. Grazie per essere tornati. Abbiamo tante cose ancora da dire. A questo punto vorrei parlarvi di finanza funzionale. Non è un argomento che così a prima vista sembra molto interessante. Comunque in inglese l'opposto di finanza funzionale è finanzia disfunzionale. Ed è appunto di questo che vorrei parlare. Difatti al giorno d'oggi molti paesi in tutto il mondo si trovano a gestire proprio questo problema. Penso che il motivo sia che nessuno dei paesi che hanno una moneta sovrana capiscono esattamente che cosa questo significhi. E ci comportiamo come se ci trovassimo di fronte allo stesso tipo di vincoli, come per esempio agiscono i governi, come le famiglie per esempio. Ce lo dicono continuamente che un governo dovrebbe avere una buona gestione delle proprie finanze. Che cosa vuol dire? Deve esercitare una buona disciplina fiscale, esattamente come si deve fare all'interno di una famiglia. Speriamo che però a questo punto voi abbiate capito che un paese che gestisce, lavora o opera con una propria valuta fiat, cioè legale, non convertibile, il governo non si impegna a convertire la valuta in oro o nella valuta di un altro paese, non si deve necessariamente comportare come una famiglia, può utilizzare il proprio potere in maniera diversa. Ed è questo che appunto si chiama finanza funzionale. Stamattina ho parlato di Abba Lerner. Abba Lerner scrisse molti articoli e libri importanti che hanno influenzato molto del lavoro degli economisti che ora si occupano di MMT. I lavori di Lerner più importanti sono stati scritti proprio quando il mondo si trovava a gestire, a combattere gli effetti della Grande Depressione. Lerner capiva, così come anche Keynes, che la disoccupazione era una caratteristica normale di qualunque economia capitalista che utilizza la moneta. Per Lerner la disoccupazione non era semplicemente una cosa che i paesi debbono gestire, soprattutto in caso di grave depressione o di recessione, ma anche in periodi di normalità, perché l'economia opera sempre con un certo livello di disoccupazione. Lerner come economista si avvaleva dell'operatività del sistema economico in maniera molto diversa da quanto si fa da parte degli economisti tradizionali, cioè l'offerta crea una sua propria domanda. I mercati tendono naturalmente ad avere disoccupazione e i governi però si frappongono alla piena occupazione. L'intervento da parte del governo quindi non è necessario ed è destabilizzante. Quando si verifica qualcosa di negativo in ambito economico, il miglior corso di cose per il governo è di tenersene alla larga, lasciare fare, lasciare correre. I mercati si risolveranno da soli, sono autocorrettivi. Lerner però non accettava questa posizione, non l'accettava neppure Keynes. Entrambi infatti capivano che le economie di mercato sono complesse e le decisioni prese dai produttori sono diverse e non coordinate rispetto alle decisioni prese dai consumatori, dagli stranieri, da altre aziende, dai governi. Lerner non pensava che ci fosse un meccanismo che potesse coordinare le decisioni relative alla spesa di tutti noi con le decisioni relative alla produzione dell'industria e delle aziende in maniera tale da far funzionare l'economia in maniera sana, in maniera da poter portare alla piena occupazione per tutti. Le aziende debbono produrre oggi senza sapere che gli riserverà il futuro, cioè quale sarà la domanda futura per i loro prodotti. Forse hanno prodotto troppo poco e la domanda invece è molto più elevata. In questo caso c'è un calo delle scorte e questo è un buon segno perché la gente vuole più produzione e quindi la risposta delle aziende è produrre di più. Ma se le aziende producono e poi alla fine la domanda non c'è, allora le scorte cominciano a aumentare e il segnale a questo punto per l'azienda è che hai prodotto troppo. E allora che fare? Secondo la teoria economica convenzionale, noi sappiamo che questo non è un problema. Se si accumulano le scorte, calano i prezzi. fino a quando c'è una domanda per tutto quello che è stato prodotto. Nel mondo reale però le cose vanno in un altro modo. Sappiamo come rispondono le aziende quando cala la domanda dei loro prodotti. Rispondono riducendo la produzione e licenziando parte della forza lavoro. e questo ovviamente dà il via alla disoccupazione e quindi è una conseguenza naturale. È così che funzionano tutte le economie di mercato. Non esiste neppure un'economia capitalista in nessuna parte del mondo che riesca a raggiungere la piena occupazione e a mantenerla. Tutte le economie di mercato seguono una ciclicità. Cioè quando i tempi sono buoni e la disoccupazione è bassa si sa che poi ci saranno delle flessioni con una disoccupazione maggiore. E quindi a questo punto i governi debbono rispondere alla situazione in un determinato modo. L'opinione convenzionale è che in presenza di disoccupazione le aziende non vogliono assumere i lavoratori a salari troppo alti e quindi la soluzione alla disoccupazione per gran parte degli economisti accademici in tutto il mondo quindi non può che essere abbassare i salari. Quindi troppa offerta di mano d'opera, disoccupazione questo significa che il costo della mano d'opera è troppo elevata pertanto la soluzione non può essere che ridurre i salari. Se c'è qualcosa che non va sui mercati è meglio tenersene alla larga, governi alla larga e i mercati si risolveranno da soli. Alle volte gli economisti parlano anche di problemi strutturali sul mercato del lavoro. La disoccupazione esiste perché i posti di lavoro disponibili richiedono determinate competenze che i disoccupati non possiedono e quindi offrono per esempio dei programmi di formazione ai disoccupati quindi praticamente bisogna prendere tutti i disoccupati dargli una miglior formazione, una miglior qualificazione in maniera da permettere loro di trovare un posto di lavoro. I problemi però sono quasi sempre fatti ricadere sui lavoratori. Lerner e Keynes e la scuola dell'MMT rifiuta la nozione in base alla quale tutti i problemi sono causati dai lavoratori. il problema è che non ci sono abbastanza posti di lavoro. Se per esempio prendiamo 100 cani e si seppelliscono 95 ossa in un campo e si dice ai cani che il loro compito è quello di andare a trovare queste ossa seppolte. Qual è lo scenario migliore possibile? La cosa migliore è che si possa sperare che 99 cani arrivino con delle ossa 5 no. È più probabile che però alcuni cani siano stati fortunati e ne abbiano trovati qualche altro in più alcuni sono stati più bravi e ne hanno trovati 3-4 quindi il numero dei cani che ritorna senza ossa può essere 10 o 15 e quindi l'economista convenzionale a questo punto riunirebbe tutti i cani, quelli senza ossa e gli farebbe formazione in maniera da fargli imparare a sniffare le ossa in maniera più efficiente. A questo punto rimanderebbe i 100 cani nel campo e lì direbbe ritornate con l'osso e ancora una volta nel migliore dei casi avremo 95 cani con le ossa. Ma che cosa c'è che non va? C'è che non ci sono abbastanza ossa non c'è nulla che non vada nei cani le ossa sono i posti di lavoro non c'è nulla che non vada nei disoccupati semplicemente non ci sono abbastanza posti gli economisti pensano che la disoccupazione non sia un qualcosa di inevitabile ma che sia addirittura una cosa benefica gli economisti infatti pensano che la disoccupazione serva a disciplinare il lavoratore perché se si ha timore di perdere il posto di lavoro è più probabile che si lavori di più si lavori meglio per paura di poter perdere il proprio posto di lavoro gli economisti pensano che ci sia una contropartita cioè possiamo avere una minor disoccupazione ma questo porta a un'inflazione ed è e questo è il male peggiore possibile che ci possa essere al mondo quindi sempre meglio tenere un certo numero di persone disoccupate in maniera da non far operare l'economia a livello troppo elevato e riuscire a evitare che i prezzi aumentino troppo rapidamente e quindi fondamentalmente si definisce la piena occupazione come il livello di disoccupazione che permetta di non aumentare i prezzi noi definiamo la disoccupazione nel nostro modello lo abbiamo accettato e ci fornisce una scusa per non lottare ancora praticamente fa parte delle nostre politiche nel trattato di Maastricht per esempio non include la piena occupazione fra i propri obiettivi fra gli obiettivi della banca centrale europea ha un unico mandato cioè effettivamente c'è un unico pessimo nemico al mondo ed è l'inflazione la Federal Reserve negli Stati Uniti ha invece un duplice mandato perlomeno in teoria la banca centrale statunitense dovrebbe utilizzare il mezzo politico per tenere stabili prezzi ma anche per cercare di incoraggiare alti livelli di crescita ed alti livelli di occupazione comunque in ultima analisi la Federal Reserve pensa che la stabilità sia l'obiettivo principale riconoscendo probabilmente che c'è ben poco che una banca centrale possa fare comunque le politiche sull'occupazione quindi non sono compito della banca centrale sono compito dei governi nazionali fanno parte delle loro politiche fiscali ed è lì che le posiziona Lerner la disoccupazione comunque è dannosa tanto quanto l'inflazione per la società comporta dei costi tremendi l'abbiamo visto sammattina quali sono alcuni di questi costi ci sono i costi diretti che sono ovvi tutti quelli che non lavorano che non producono qualche cosa rappresentano uno spreco dal punto di vista economico una perdita di produzione per tutta la società e quindi un reddito che non viene prodotto comunque ci sono anche altri costi probabilmente anche più importanti che sono quelli indiretti stamattina abbiamo parlato di alcuni cosa succede se si è disoccupati se si sente esclusi dalla società le proprie competenze tendono a calare più a lungo si è disoccupati più si tende a perdere le proprie capacità le proprie competenze più dura la disoccupazione meno impiegabili si diventa le aziende non vogliono assumere delle persone che sono disoccupate già da mesi oppure nel caso negli Stati Uniti addirittura da anni la disoccupazione crea un danno psicologico la depressione l'ansia il numero dei suicidi aumenta e questo può essere un buon segnale per le case farmaceutiche che producono antidepressivi e guadagnano tantissimo da questa situazione ma è estremamente dannosa per la società si perde la motivazione peggiorano i rapporti familiari aumentano le violenze domestiche i divorzi tante cose quando aumenta la disoccupazione ed è difficile misurare questo tipo di costi però è possibile farlo quest'anno la Casa Bianca ha realizzato uno studio proprio nel tentativo di capire esattamente quali fossero i costi della disoccupazione di un giovane un giovane che non lavora e non studia quali sono i costi indiretti che ricadono poi su tutti noi aumenta il tasso di criminalità si perde il posto di lavoro si perde l'assistenza sanitaria e quindi praticamente non si va dal medico fino a quando non si sta molto male aumenta la spesa anche per i servizi sociali perché la gente non ha un reddito con cui sostentarsi la Casa Bianca ha valutato che i costi di un ragazzo disoccupato che non studia in America sono di 38 mila dollari circa all'anno e vediamo i costi diretti cioè la perdita di produzione di reddito derivante dalla disoccupazione delle persone che non producono niente quindi non sono produttive su un posto di lavoro quindi persone che danno un servizio alla comunità e all'economia nella curva in alto quella verdolina vediamo quella che era la tendenza del PIL statunitense prima della crisi finanziaria e la recessione se non fosse mai avvenuta la stima praticamente avrebbe seguito l'andamento di questa curva ma a causa della crisi e della recessione il nostro PIL è calato in maniera brusca la differenza fra la curva rossa e quella verdolina è il gap del PIL il divario del PIL cioè che rappresenta la perdita di reddito di produzione derivante da questo incremento di disoccupazione e a quanto ammonta esattamente Bill Mitchell che è un esponente di punta dell'MMT ha fatto una valutazione e la vediamo qui ha valutato il costo giornaliero della disoccupazione negli Stati Uniti la differenza fra le colonne blu e le grigie su base giornaliera e ha concluso che gli Stati Uniti sta sacrificando l'equivalente di un importo che va da 6 a 11 miliardi di dollari al giorno che noi praticamente perdiamo a causa dell'elevato livello di disoccupazione e Bill dice e lo dice in maniera molto diretta senza usare mezze parole dice dite a voi stessi tutti i giorni il governo degli Stati Uniti permette che 9,7 miliardi di dollari se ne vadano giù per lo scarico sotto forma di reddito perduto proprio a causa del fatto che sono troppo stupidi per implementare delle valide misure di creazione di posti di lavoro però cosa sono delle misure sensate di creazione di posti di lavoro se chiediamo a un tecnocrate o un esponente per esempio del partito conservatore statunitense la risposta sarà che la soluzione per la creazione di posti di lavoro sta proprio nella creazione di un ambiente migliore per le aziende ok sono d'accordo ma che cosa significa esattamente creare un ambiente migliore per loro significa ridurre le tasse significa meno regolamentazione sono queste le cose che veramente contano per le aziende per questo che gli imprenditori non investono e non assumono è per questo quindi che non aumenta l'occupazione ma chiedete a un imprenditore quali sono gli ostacoli che incontra domanda sondaggio dopo sondaggio negli Stati Uniti abbiamo visto che non sono i livelli di tassazione elevati oppure la eccessiva regolamentazione che trattiene gli imprenditori dall'assumere di più e dall'investire di più ma è il basso livello di vendite ecco questo è il problema mancano i clienti e il motivo per cui i clienti non ci sono è che ci troviamo in una crisi finanziaria che è stata alimentata da un'enorme bolla del debito che è scoppiata e ha lasciato enormi strati della popolazione statunitense senza reddito senza i soldi necessari per andare nei negozi l'economia di base per persone come Lerner Keynes o per l'MMT è molto semplice le vendite creano posti di lavoro le aziende assumano quando hanno tanta domanda non quando hanno gli sgravi fiscali non quando viene fatta la deregulation sono i clienti a creare le vendite ma i clienti devono avere dei soldi da spendere un reddito e quindi anche il reddito crea vendite e la spesa crea il reddito tutte le volte che una persona spende dei soldi c'è un'altra persona che le riceve e quindi questi soldi diventano il suo reddito se pensiamo per esempio se pensiamo di voler guadagnare dei soldi e la ricchezza ecco dobbiamo interpretare l'aspetto economico in questo modo l'austerità fiscale o la buona finanza come la chiamano significa tagliare la spesa ma questo significa anche tagliare i redditi e questo significa poi alla fine tagliare le vendite e questo significa perdere posti di lavoro che cosa suggerisce Lerner la disoccupazione esiste perché non c'è abbastanza spesa nell'economia in qualunque economia del mondo la spesa deriva da quattro fonti diverse cioè il settore famiglie che è la fonte principale di domanda che c'è nell'economia le aziende il settore pubblico e il resto del mondo quindi tutto quello che gli altri paesi vogliono comprare da noi qual è il problema oggi? la spesa che va per i consumi è calata perché i redditi sono calati se la gente non consuma le aziende non hanno clienti e quindi diminuiscono gli investimenti per cui ci sono due componenti importanti della domanda in economia vengono a risultare fortemente depresse come avviene adesso il consiglio di Lerner è di controbilanciare questa situazione con la spesa governativa la finanza funzionale è il termine che ha forgiato per la sua proposta di come il governo debba gestire la propria politica fiscale macroeconomica bisogna intanto avere una moneta sovrana per poter gestire la finanza funzionale non lo si può fare sulla base dello standard aureo sulla base di tassi di cambio fissi non si può fare con l'euro gli Stati Uniti hanno una moneta sovrana ma le sue finanze sono disfunzionali semplicemente per il fatto che noi possiamo fare certe cose non significa che poi le facciamo e non basta semplicemente creare il sistema di controllo adatto bisogna anche creare la macro politica corretta Abba Lerner ha scritto un articolo molto colorito se volete che si intitola l'economia del volante e all'inizio dell'articolo parla proprio di questo pianeta immaginario in cui i marziani vanno in giro sulle loro vetture complicatissime interplanetarie sul loro sistema di autostrade planetarie le vetture non hanno il volante e i marciapiedi sono molto alti e quindi le vetture vanno avanti sbattendo da una parte all'altra quindi Lerner dice se un terrestre visitasse questo pianeta guarderebbe questo sistema autostradale direbbe ma è una follia è pazzesco noi siamo molto più intelligenti sulla terra noi abbiamo messo lo sterzo sulle macchine non è necessario sbattere da un marciapiede all'altro per andare avanti riusciamo a controllare il nostro destino e a questo punto dice perché siamo così perché non siamo altrettanto intelligenti quando si tratta di economia molliamo il volante ci lasciamo sbatacchiare di qua e di là dal mercato e diciamo beh non c'è niente che ci possiamo fare l'assefer lasciamo fare che cosa vuole Lerner? Vuole la finanza funzionale il compito del governo è duplice innanzitutto il governo deve mantenere il livello di spesa dell'economia abbastanza elevato da mantenere una piena occupazione numero due il governo deve usare i suoi poteri per adeguare le tasse la spesa in maniera da ottenere il primo obiettivo raggiungere il primo obiettivo non si mira a un determinato arbitrario a livello arbitrario di deficit il governo deve sapere dove va in risposta a quello che succede in economia le tasse non servono a finanziare il governo servono a far andare avanti il sistema monetario fanno in modo che la valuta del governo venga accettata gli danno valore ma il valore non ha bisogno di farsi dare soldi da spendere dal settore privato il governo spende emettendo la propria valuta il governo non ha neanche bisogno di prendere a prestito per farlo fra l'altro Lerner dice che non dovrebbe farlo il prestito consiste nel prendere i soldi da quelli che li hanno quando l'obiettivo è quello di far spendere la gente il più possibile per conto loro per avere una piena occupazione con una valuta sovrana i governi spendono indirizzando le loro banche ad accreditare sul conto di qualcun altro e questo avviene senza che il governo deva firmare neanche un assegno nell'era moderna i governi spendono pigiando sui tasti del computer e questi colpetti sul computer non si esauriscono mai noi alle volte diciamo il governo è un po' come quello che tiene i punti di una partita se andate a una partita di calcio e la vostra squadra va benissimo e fa un gol dopo l'altro voi che cosa fate state lì seduti fra il pubblico e avete paura che alla fine non ci siano più punti da attribuire no è impossibile ed è anche impossibile che il governo non abbia più colpetti da dare sui tasti non ci sono vincoli finanziari per un governo che emetta una propria moneta l'unico 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 vero limite è un limite di risorse cioè se si vuole usare più risorse di quante non siano disponibili il prezzo di queste risorse aumenta e il risultato sarà l'inflazione che deve fare allora il governo utilizzare i propri poteri per tassare tassare per mantenere l'economia operante alla temperatura giusta Lerner pensa che i bond non siano strumenti di finanziamento ma termostati come il termostato che abbiamo a casa che cosa facciamo se è troppo freddo aumentiamo la temperatura ma se è troppo caldo abbassiamo la temperatura sul termostato stessa cosa bisogna fare con l'economia se l'economia non funziona ad alto livello allora si riducono le tasse e si aumenta la spesa se l'economia invece sta operando a livelli troppo e poco elevati si aumentano le tasse e si taglia la spesa quindi sono strumenti questi da utilizzare per raggiungere gli obiettivi della politica macroeconomica Lerner dice che il deficit è normale che il governo sarà sempre in deficit è uno stato di cose normale da accettare secondo lui ma quando si parla però del tipo di deficit su che cosa dovrebbe spendere il governo se il governo riduce le tasse chi ne deve trarre beneficio l'MMT propone un'ampia gamma di programmi probabilmente il più importante riguarda la garanzia del posto di lavoro e molto brevemente vediamo che la garanzia del posto di lavoro è un programma che permette al governo di raggiungere qualcosa che non è mai stato raggiunto in nessuna economia di mercato cioè la vera piena occupazione l'idea di fondo è che il governo offra un salario e un pacchetto di benefit a tutti i disoccupati che siano però pronti disponibili e in grado di lavorare questo programma praticamente attinge ad una riserva di sicurezza di scorta assorbe i lavoratori quando l'economia è debole e li lascia andare e li rende disponibili quando l'economia è forte quindi praticamente permette l'attuazione del programma governativo nonostante la ciclicità naturale dell'economia anzi assecondandola i benefici di un programma di questo tipo sono molteplici e probabilmente se ne potrà parlare più specificatamente più tardi nel corso della serata grazie grazie